Ciao a tutti dal Saludatore, una grandissima sorpresa, un bravissimo regista, Gennaro Muziante Covallo, bravissimo, anzi io ve lo consiglio, sì sì, è la modessia, è una cosa che pochi anni, era merito di tutta quanta perché io ho visto il film e lo consiglio a tutti quanti. E se ve lo consiglia lui? Il Saludatore, sappiatelo che il Saludatore è veramente bello e tocca oltre tantissime risate anche dei bei temi molto importanti per tutti quanti e adesso facciamo fare un saluto da registrati. Un saluto a voi e tanti auguri per il nuovo anno. Ricordiamo, si può vedere dal primo dell'anno, da che ora? Da che ora che volete voi? Non è che vi danno un po' veloce, potete andare alle 4, alle 6, alle 8, alle 10, alle mezzanotte, quando volete voi? Dopo la mezzanotte, da mezzanotte e poi già posso vedere, al 31 a mezzanotte già parte questo film e quindi andate anche a mezzanotte, se non avete voglia di suicidare a mezzanotte andate al nostro film, vi cambia la vita. Buon capolanno a tutti, ciao, buon lavoro. Grazie tutti.